ok una cesta io ne faccio un'altra dai fai quella su che è la più rompiballe fatti sta cassa e vai via fatti quella su ho visto una Reagan quindi si ci sono le armi wonder e anche la wonder armi wonder wonder qua ci sono le granate quindi possiamo prendere le granate ho notato anch'io intanto io inizio a fare già la cassa ma quindi penso i perk sono da un'altra parte tipo il jug da un'altra parte si cambiano e porca puttana sono morto dalla mia cassa vicino al jug vicino alla cassa cioè alla vera cassa se riesci a venire bomber ti stimo ti vedo che cretino ammazzali ammazzali oh ha preso l'anima da là in fondo ha preso l'anima da là in fondo vabbè io adesso posso farmi una cassa e posso resistere un po' di più ok dai smetti ma sei un coglione non spawna adesso non spawna che cazzo ridi ma sei scemo ma dai ma questo è un cretino ma dimmi se sei nato stupido madonna no non mi stavi l'animando perchè hai fatto il coglione potevi startene fermo e l'animarmi domandamente ma no devi fare il coglione io la volta seria si si la volta seria mia madonna che bastardo ok ha preso crediti anch'io se no mi incazzavo se no prendevo anche i crediti puoi usare un'arma buona ecco è partita finita che mi perché non c'è che è un coglione no non ero morto porca puttana siamo da 40 minuti qua lo vuoi capire ben domani ma un cazzo ora io tiro la granata al mio orsacchio un cretino madonna scrivete tutti i jekhi no la stag jekhi è un cretino è che è bello anche te amicone gulter ci guardi sempre dal tuo divanetto noi sappiamo noi sappiamo we know everything about you non so cosa sei te il bastardo di merda sono a 500 punti e lo stronzo sarei io no perchè io vedo lo zon dopo boom lo vuoi rubare eh però non l'ho rubato lo mio stronzo sei te porca puttana che ti fai 2000 casse e mi rompi le balle e non mi reanimi neanche bastardo di merda lo potevo anche staccare io siamo qui a fare sta merda di questo map per colpa di te sei un cretino è una di merda dai vengo a far cassa dov'è la cassa è lo spawn lo spawn adesso te ne prendi una cassa l'hai fatta sai fare quelle merda di cose e dobbiamo aprire tutte le cose per fare le cose ah cosa mini uzi col milione di merda vado a fare una una cassa io faccio quella dove ero prima ok io faccio quella che ero dove ero prima anch'io così in teoria ci rianimiamo anche più velocemente lo campava campero ma non so quanto sia c'è un kaboom se vuoi qua no lo prendo o no no da me non arriva un cazzo comunque sta arrivando uno sopra da te è sceso da me era pieno erano in tre mi hanno fatto il panino due da una parola era pieno erano in tre cheat mi ricordi qualcuno oh fioi c'è il mondo occhio occhio c'è il mondo mattone mattone madonna che sbrago era oh fioi c'è il mondo occhio occhio c'è un cazzo nessuno ma quella era un round 20 quindi è ci sta anche vabbè 24 zonbi questa qua è l'arma tipica di quelli dei tricks di trick la mia la m9 come la cambia perché? mi sembra che quell'arma che si usa la gente per fare i trickshot non so perché la pistolina che usa la gente per fare i trickshot tanto c'è bellissimo perché la gente sale poi io mi allontano e scende e risale e poi io mi avvicino e riscende che figata dai non per coglione dimmi sa di uno e basso perché io scopro l'altra parte intanto perché sei la mia cassa è uno ne sta arrivando orsacchiotto ok la mia cassa è finita vengo vado all'altra vieni nella mia no dobbiamo fare dobbiamo fare divise perché non siamo più amici da quando hai deciso di non rianimarmi scusi di cattiveria può darsi non ho detto ufficialmente di sì però può darsi tanto io vado ad aprire un random coso perché dovevamo aprirle ricordo anche te quando i punti aprili non far cassa inutile ho un'arma di merda non mi diciamo un cazzo anche io ho un'arma di merda però te la fai bastare senti io apro quello che c'è da me vicino comunque se stavate chiedendo la mappa è ulg ulg com'era? overwork overgrowth overgrowth è venuta in mente anche me vabbè lasciamo lì è in descrizione sì 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 chiaramente di media file giusto per cambiare no per cambiare e da la prima custom map faremo anche altre custom map anche in compagnia di goro appunto e anche se lo prendo sì e poi avevo forse anche auspite speciale dovevi aver aperto la spamina io ho aperto il deadshot aspetta ho visto qualcosa qui ma per le robe più inutili ah è semplicemente per salire sono io ok allora eh ammazza i tuoi se ne hai ne manca uno è là sta scendendo da te da dove? adesso fa le scale ma dove lo vedi? non lo lo si adesso fa le scale perché mi lanci i granate? guidati mi chiedo di ucciderlo io ah beh è qua che cazzo è? no guarda arriva da là dalle robe bianche ah di tanto li sparo ai piedini perché voglio fare punti eh ma sei un coglione devo usarlo per la cassa magari cretino per la cassa devo usarlo cretino è lontanissimo lui proprio lui incredibile tanto io cerco altri orsacchiotti prova a lanciare i granate qua che per me è un orsacchiotto qua sicuro c'è o magari era quello che avevi preso te non lo so ma io l'ho preso vicino il pacco pancio allora no ho lanciato la granate credo che fosse la parte del pacco pancio ma è stato attivato lo stesso perché perché l'esplosione esplosione perché si si è grande 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 il quadrato doppio risultato esatto per pire ecco la seconda perché se no puttana no sono in mezzo all'erba eh non posso farci nulla forse è meglio se non mi rianimi forse perché se no finisce la partita no non finisce la partita non ci credo mi fa ricordare mi arrivo arrivando vieni i zombie qua vi devo girare un atto stai venendo dalla scala dove era arrivato lo zombie prima no perché se vieni da quella è molto meglio eh vabbè mi sa che sono morto un botto no su qua puttana eh ma porca troia dai quanto che ore sono non vedo aspetta faccio shift tab che vado meglio non mi dice che ore sono si dice 7.51 puttana dai veloce l'altra riavvia subito quello che voglio fare allora hai il mio sacchiotto qua 82esimo tentativo speriamo che vada bene boom provate la cassa dove è prima ok ho trovato l'altro grazie mi mancavano esattamente quindi cazzo di 50 punti eh capita ah dragon si cazzo spero che li sciorpi almeno molto utile adesso striker perfetto io dobbiamo andare il dragon per forte adesso va bene io vado a fare già la mia cassa puttana e muoio sono un coglione mi sono messo andare in giro con la pistolina e ho fatto una cazzata enorme sono otto zombie mi va grazie grazie dall'altra parte mi pare il mare ok mi fa un euro di burro ho letto per un attimo 351 di ping vabbè facciamo ste casse tanto meglio dammi l'arma buona presto durando un po' un po' tanto susi po' un mondo a mia pazienza pazienza dopo la carta su un'alto e dissi non ferma e dalla prende le anime porca troia prende da lontanissimo le anime non so questa cosa cosa vuoi a me è un cazzo perché tipo le spari in aria ah ma ah ma no è che lei sta prendendo la tua cassa da sopra no mi pare improbabile perché è da un'altra parte è ancora disattivato allora no è un prank e poi si sta prank bro e il mio striker fa abbastanza schifo perché in testa non sciotta il mio striker il mio striker non sciotta è un pompa ah e siamo a round 3 quindi posso immaginare lo striker fa io mi sono aggolpato un po' li faccio già si fa i più punti faccio ok mettiamo money grabber si 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 mettiamo tutti i video sui dubbi in vendita ok io ho aperto un random perk vediamo se ho aperto uno qua ho aperto quello la ah ed è il piacce di flopper non l'abbiamo aperto prima eh ma è dal posto del jug e tra l'altro il pc di floppa cioè dal posto del primo era della prima partita la partita migliore c'era già allora va bene va bene ci siamo debito ci siamo debito non è come quella di cioè non è che uccide più di uno uccide solo uno ah si eh è come quella vera non è come quella vera c'è non fa da nodaria si ma devi potenziarla se la potenzi non so se fa l'effetto scimmia del di mob spero di si no di mettere l'acido di fare la spingacida eh vabbè mamma sento che qua non c'è la spingacida boh vabbè l'importante è che questo video non dura troppe ore perché durerà troppe ore vabbè dai almeno 3-4 parti si si siamo finiti adesso siamo a 47 minuti video devo tagliare tipo un minuto di mia mamma tagli detail eh cosa mamma no non abbiamo la mamma siamo maggiorenni non abbiamo ma siamo maggiorenni la mamma non esiste quando sei maggiorenna giustamente scompare dal mio tipo appena hai 17 anni e ti manca un giorno di tuo compleanno c'è la mamma il giorno dopo ti svegli e sei in una casa da solo con un foglio che scritto hai un lavoro e non hai più la mamma esatto magari fosse così beh insomma magari non voglio perdere la mamma sai com'è non è proprio bruttissimo almeno è una casa anche tua beh infatti si ma casa che comunque devi pagare con con i soldi del lavoro son tu di os però è vero infatti è anche buono sto facendo l'altra io mi sto uccidendo io col cecchino ragazzi ho deciso qualcuno ho fatto danno teddy bear vai dai io ho due tanzioni ancora dragon wolf quanto schifo fa non sciotta neanche non sciotta ok io il mio l'ho finiti vado a aprire tutte le porte possibili vieni anche te a aprire eh aspetta senti vabbè ti do il permesso di fare una cassa perchè è il dragon wolf comunque io ho un botto di munizione striker fai contone a 90 fuori dal caricatore e ne ho anche perne ho usato un botto capo le porte non ho sentito bene questi nel patto stampa sarno delle specie sce-sci-sci SUSCO con l'ordine vado ore non arrena domanda in mancano o parlo sono qui un altro come questo qua prima non l'avevamo visto Non è andata tanto meglio Non so se l'avevamo visto Un Dragon 1 L96 Ah, un altro cechino, minchia Poi me non fa più danno Dove sono gli altri zombie, l'ultimo zombie? Ok Cosa? Cosa? Ah, ho detto, intanto vado a farmene uno anch'io, giusto per Io devo sputare la kingdom perché non so più da un cazzo Io ho due mele che stanno marcendo Due pezzi di mela, no, non è vero Ah Cioè non è che stanno marcendo, sono quello stesso che prendo Maria E quindi una lezione chimica Quindi ha insegnato il mio prof Che ha un amico Che ha un cugino che abita in Afghanistan Che ha un suo amico, che ha il fratello Il suo pro zio del secondo grado che gli ha raccontato È vera sta cosa? O te la sei inviata al momento? Può darsi Può darsi Non lo saprete mai Solo ci raggiungiamo un milione di like Sì, sapevo Io ho trovato il Galil comunque Ah, tu ti fai cassa senza il mio permesso Eh, ti ho detto faccio cassa E te pensavi a parlare del tuo prof Pensavi a parlare delle mele Avevo mille punti di scarto Ho detto li uso Per il bene nostro Ma con altri controcento? Con altri controcento? E qual è la porta? Eh, scusa È questione di chimica Oh, la mia cassa? Sì La mia cassa? Io la devo vedere sotto il garage Perché mi ispira Perché sono successo un cazzo i primi? Mi importa il domino della tua cassa? Sì Possibilmente sì Sono pieno Ma mi sa che sempre l'ultima dura un botto Ho come questa impressione Può essere Tipo io ti conveccio a ro E io a yev Because 20 zombie No Non ti manca Avrò una decina di zombie Ok, intanto li ha coltello Breccialista Che ne vedo arrivare pochi No, è l'orsacchiotto Hai trovato qualcosa di brutto In una cassa? Sì, come? Ma non posso buttarmi da qua Fanculo Ti stavi già per sacrificare? Addio Mi stavo buttando Mi stavo suicidando Solo per votare Oh Faccio il mulo Comunque cambia posti Perché sì Da un'ista chi l'ha l'altro Un'altra Querta, porta Tutto le zombe Ora arriva pieni zombie L'ha notato E sparo un po' perché se no Perché se no Porca puttana Ma ho sparato Ho sparato Ho sparato Stavo sparando Ma sei strastato Almeno Stavo coltellando È una cosa un po' diversa qua Ma Ne dà che ha coltelli E sparavo con l'L96 Io direi che il video può anche finire È finito male Però Porteremo Porteremo La Ne porteremo Sì assolutamente Con goal Esattamente Adesso eravamo anche solo in due E niente raga Questa era la prima custom up Diciamo per introdurvi A cosa sarà il mondo del custom up Perché questo canale Principalmente la nostra idea Era che porteremo Con custom up Ne registreremo una settimana E ve la porteremo Una settimana circa Perché se calcoli Più vabbè video Magari vi porteremo Una della domenica Non sono un video di paladin Sono best of Vedremo Eeeh Sì Sono bellissimi Non puoi dire che non sono belli Comunque Sono belli Sono belli E niente Ci vediamo in un prossimo video E compagnia magari anche il digore Appunto su custom up E saluta Sono molto bravo Sono molto bravo Grazie a tutti